A quattro giorni dal raid incendiario ai danni del consigliere Sabino Morano ci sono ancora le carcasse delle auto date a fuoco. Intanto Morano lei ha paura visto che comunque al momento non c'è stata nessuna svolta giudiziaria, i responsabili sono ancora liberi, probabilmente liberi ancora di colpire. Ho paura? No, perché caratterialmente non sono una persona in genere ha paura, certamente sono dispiaciuto, sono molto preoccupato per quello che succede, che succede a me ma soprattutto che succede a questo territorio. A mia memoria, attentati di questa dimensione, mancavano in questo territorio a livello politico da moltissimi anni. Lei ha chiesto la scorta alle istituzioni? Si sente tutelato? C'è stata comunque qualche misura di protezione su un fronte? So che è stata disposta una tutela per cui la zona è continuamente monitorata dalle forze dell'ordine. Chiaramente penso che nelle prossime ore incontrerò le istituzioni per definire la cosa dal punto di vista... A quanto mi risulta non si è riunito il comitato per l'ordine pubblico fino ad ora, però cercheremo di capire nelle prossime ore. Sicuramente in questo momento è evidente che io e la mia famiglia siamo nel mirino di qualcuno. Lei è stato probabilmente anche seguito, pedinato prima di questo raid incendiario. Chi ha dato fuoco a queste auto sapeva bene le sue abitudini, è riuscito a evitare anche la videosorveglianza e le telecamere che sono installate in questa zona? Di questo ne sono assolutamente convinto, anche perché nessuno, quasi nessuno in città è a conoscenza del fatto che la Giulietta fosse di mia proprietà. Il cerchio è ristrettissimo, è una macchina che non utilizzo solitamente, è una macchina che non è nemmeno intestata a me perché è intestata a mio padre. Chi ha compiuto l'atto chiaramente ha seguito nei giorni immediatamente dopo il primo attentato, quella della Fiat Panda dall'altro lato, ha seguito i miei movimenti. sapeva che la macchina stava in questo posto a quell'ora, che non era assolutamente un posto che stava per un caso in quel momento qui.